Sì, semplicemente interveniamo subemendando questo emendamento per dare direttamente la gestione ai municipi competenti per territorio, sentito il Dipartimento sviluppo di attività produttiva e agricoltura, del Farmers Market su strada. Colgo l'occasione per ricordare al Consiglio di Corsetti, qualora non lo ricordasse, che il decentramento applicato alle precedenti amministrazioni è prossimo allo zero ed è solo con la delibera 30 e con questa delibera del Farmers Market che iniziamo un vero decentramento, nonostante le precedenti amministrazioni dal 99 avessero approvato un regolamento mai attuato, quindi siamo seri, cerchiamo di fare le persone serie.